Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antena 2. È arrivato nella giornata di ieri il vento di Fönn a riportare i cieli sereni sul nostro territorio. Venti intensi che hanno spazzato tutto il nostro territorio portando questo bel clima gradevole. E con temperature però che proprio questa mattina si sono abbassate notevolmente. Pensate che a Clusone sono stati toccati 2-3 gradi di minima quindi davvero freddo per il periodo. Poi però nel corso della giornata odierna le temperature grazie al bel soleggiamento diurno hanno raggiunto di nuovo i 12-13 gradi. In un contesto comunque decisamente autunnale. Nel corso della giornata di oggi abbiamo avuto anche un'attenuazione del vento. Ma cosa accadrà nelle prossime ore? Ho indicato una domenica caratterizzata dal bel tempo. Avremo l'anticiclone in espansione sul nostro territorio ad esclusione di qualche locale velatura che nel corso della giornata a causa della rotazione dei venti da est porterà qualche annuvolamento sul nostro territorio ma nulla di rilevante e farà abbastanza fresco per il periodo. Infatti continueranno ad affluire questi venti particolarmente freschi provenienti dai Balcani che terranno la colonnina di Mercurio abbastanza nei valori minimi piuttosto bassi. Poi cosa accadrà la prossima settimana? La prossima settimana avremo ancora un tempo caratterizzato dal bel tempo, un clima secco, temperature fresche al primo mattino ma nel corso poi della settimana le temperature tenderanno ad aumentare con massime che si riporteranno nella media del periodo e addirittura a qualche grado superiore con massime acclusione intorno ai 18-20 gradi. Ma andiamo con ordine e vediamo l'evoluzione del tempo per la giornata di domenica domani che viene una giornata in prevalenza in compagnia del sole con qualche locale velatura nel corso della giornata come vi anticipavo dovuta all'ingresso di aria più fresca da quadranti orientali che porterà qualche annuvolamento sul nostro territorio. Pressione atmosferica in lento e graduale ripresa, venti in graduale attenuazione nel corso della giornata, bel tempo anche nella zona della Valle Camonica così come nella zona della Medio-Bassa Valle Seriana e lago di Iseo dove appunto avremo solo qualche locale velatura, uno zero termico che si posizionerà intorno ai 3.000 metri di altitudine. Evoluzione del tempo per la settimana in Valle Seriana Vedete, in prevalenza una settimana soleggiata Avremo lunedì un pochino di variabilità che potrebbe interessarci nel corso della giornata ma nulla di preoccupante, non sono previste alcune precipitazioni Ho indicato temperature minime acclusione in ripresa 6-7 gradi di minima e massime intorno ai 15-16 gradi, zero termico intorno ai 2.800 metri di altitudine Martedì e mercoledì saremo in compagnia del bel tempo Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso su gran parte del nostro territorio Temperature vedete ancora in qualche grado di ripresa con massime acclusione intorno ai 17 gradi All'overe saremo intorno ai 20-21 gradi così come nella città di Bergamo 21-22 gradi Zero termico in innalzamento a 3.000 metri di altitudine e pressione atmosferica in ripresa oltre i 1020 millibar Infatti è anticiclone che si espande sul nostro territorio e tiene molto distanti le perturbazioni Infatti non cambia neanche nella giornata di giovedì e venerdì Saremo protetti da questa cupola anticiclonica Le piogge interesseranno solo il nord Europa Noi invece non avremo un periodo decisamente secco per essere a ottobre Quindi cielo ancora in prevalenza sereno, poco nuvoloso Vedete anche le temperature si manterranno nella media del periodo comprese fra i 9 gradi di minima e i 17 gradi di massima E anche il prossimo fine settimana i nostri modelli matematici ci vedono in compagnia di belle giornate e sole con temperature gradevoli, addirittura miti soprattutto fra sabato e domenica E per il meteo è tutto, vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antena 2 Grazie a tutti